Che cos'è il carcinoma a cellule squamose metastatiche? Il carcinoma a cellule squamose metastatico è una forma di cancro che può colpire la pelle, le labbra, il pancreas e altre aree del corpo, che si è diffuso oltre il punto in cui ha avuto origine. Alcune aree sono più soggette a metastasi rispetto ad altre. Ad esempio, il carcinoma a cellule squamose pancreatiche è molto aggressivo, mentre la maggior parte dei tumori che si verificano sulla pelle si diffondono lentamente o non si diffondono affatto. Il termine metastatico significa che il cancro è emigrato dalla sua area iniziale di partenza a un'altra parte del corpo. Questo rende molto più difficile da trattare, anche se questo dipende da dove e quanto è stato diffuso. Il carcinoma a cellule squamose metastatico di solito si verifica nel pancreas? Altre forme di carcinoma a cellule squamose sono rare o non si diffondono più spesso. Uno dei più comuni tipi di carcinoma a cellule squamose si verifica sulla pelle. Questo tipo di cancro si diffonde molto raramente. Quando lo fa, può spostarsi nel sangue, nel collo o nei polmoni. Se preso precocemente, questa forma di cancro ha un alto tasso di guarigione. Quando si verifica all'interno di organi interni, come il pancreas, può rendere difficile la diagnosi precoce. I tumori della pelle si trovano spesso molto più facilmente perché sono completamente visibili. Ciò riduce il rischio di carcinoma a cellule squamose metastatico sui tessuti esterni. I segni di cancro della pelle includono una ferita non guaritrice che può temporaneamente asciugarsi o incrostarsi e quindi riaprirsi. Possono anche verificarsi sanguinamento, stilecidio, puse lividi. La chemioterapia e le radiazioni sono i metodi di trattamento più comuni per la maggior parte delle forme di questo cancro. La chirurgia può anche essere utilizzata per rimuovere tumori o lesioni in caso di cancro della pelle. Quando nelle sue fasi iniziali, una rimozione chirurgica può essere l'unico trattamento necessario. I tumori in stadio successivo avranno probabilmente bisogno di una combinazione di trattamenti. I sintomi possono variare a seconda di dove si trova il tumore. I cancre della pelle possono apparire come una ferita non cicatrizzante che può incrostarsi e quindi infiammarsi di nuovo. Può anche verificarsi un sanguinamento. Altre forme non possono causare alcun sintomo fino a quando non è nelle sue fasi successive, quindi ci possono essere affaticamento, nausea, dolore o dolore nella zona in cui si è formato il cancro e disturbi digestivi. Se si manifestano sintomi inspiegabili o se una fastidiosa ferita alla pelle non scompare entro due settimane, si consiglia di recarsi dal medico. Il carcinoma a cellule squamose metastatico è più comune tra quelli sopra il 45 anni, sebbene possa colpire chiunque. Poiché i sintomi possono essere vaghi e si trovano spesso in un numero qualsiasi di altre condizioni, è una buona idea escludere problemi più seri.